delle possibilità. Non perdo tempo in elogi degli interventi precedenti, anche perché ho risaputo che in rifondazione stanno i migliori menti della nostra generazione, per parafrasare il grande Allen Ginsberg. Io mi occupo di ecologia da 1963, di ecologia, non di ambientalismo, non di ambiente, ma semplicemente perché l'ecologia è proprio la casa del vivente nell'universo che conosciamo, del vivente di cui noi facciamo parte laicamente, da Darwin poi, invece teologicamente prima di Darwin. Questo occuparsi di ecologia, e ribadisco non di ambiente, perché poi è diventato facilmente una questione appunto di greenwashing, come è stato più volte detto anche oggi, mi occupo di ecologia perché è la scienza che studia le relazioni fra i viventi e in particolare fra i viventi e l'uomo, che è un vivente un po' particolare. Una illuminazione mi venne giusto nel 1963 da una compagna di scuola, di liceo, pure carina ma questo è relativo, che mi disse ma come si fa a non essere comunisti? Infatti non si può non essere comunisti, tanto più si ti occupi di ecologia, tanto più si ti occupi della situazione della vita in genere sulla terra, che ce ne saranno molte altre in un universo sicuramente, ma per adesso conosciamo l'unica è questa. Ma in quegli anni, parlo degli anni 60, 70, il comunismo significa essere il PC e che andava benissimo per le grandissime lotte sociali, per le grandissime vittorie, per le tante cose che non stiamo a ricordare adesso, ma che su queste cose obiettivamente non ci capiva un cazzo con tutto rispetto parlando. Nel senso che ancora infatuati dalla visione del grande balzo alla Lenin, della necessità dell'aumentare la produzione, della crescita, dell'aumento del PIL, assolutamente non solo giustificabili ma extra lodabili negli anni di Lenin e successivamente, è diventato poi invece un cancro del pianeta a cui i sedicenti ormai dopo comunisti hanno partecipato non poco. Basta pensare alla estinzione del Marcaspio per non dire di un'infinità di altri danni che sono successi anche là. Naturalmente l'Occidente è sempre primeggia anche nei danni nell'ambiente. Poi Bolognina nasce di fondazione comunista, finalmente. Nasce di fondazione comunista e ha quel grande merito, quel grande pregio di inglobare tutte quelle culture che non sono esclusivamente soltanto sociologiche ma anche un pochettino più scientifiche. Infatti si comincia a parlare anche di altre cose. Ricordo una pagina memorabile del giovedì di liberazione dedicata all'animalismo che era una bestemmia per la maggior parte dei vecchi comunisti e invece era comunismo puro, quello di fare un discorso non antropocentrico, un discorso darwiniano di evoluzione e non di darwinismo sociale come ha fatto tanto comodo parlarne poi successivamente nonostante Giacropocchi un secolo prima l'avesse già evidenziato che era una bufala quella del darwinismo sociale. Però in queste condizioni il PRC poté fare molto, poté fare molto e poté partecipare al G8 di Genova anche su questi temi contro la globalizzazione. Partecipò più timidamente al TBIO dell'anno prima, al cui comunque partecipammo molti di noi. E l'informazione quindi fu una grande promessa da questo punto di vista, soprattutto perché si cominciò finalmente a parlare di patriarcato, tirando fuori il vecchio Engers, le origini della famiglia della proprietà privata dello Stato, che metteva, in modo che più chiaro non si poteva con gli strumenti poi dell'Ottocento, quali erano le motivazioni del senso del possesso dell'altro, di qualunque genere fosse. Fossero donne, fossero negri, negri, diciamo pure negri senza fare quel ufemismo di chiamarli neri, fossero schiavi di ogni genere e fosse il pianeta, il pianeta stesso, cioè il possesso e il diritto di dominare su ogni cosa e su ogni persona, su ogni vivente, proprio fra l'altro anche in ottemperanza a quelli che sono gli iscritti della Genesi. Ed è per questo che anche la laicità dovrebbe essere un discorso assolutamente fondante e fondamentale per un discorso, per un lavoro sull'ecologia. Con buona pace dell'enciclica di Francesco, che è una bella enciclica, molto parziale, però insomma interessante comunque sia, ed è il pontificato di questo Francesco che obiettivamente ogni tanto ci stupisce, nonostante io sia estremamente laico. Eppure anche in questi anni del PRC alcune cose ce le siamo perse. Possibile che abbiamo dovuto affidare alla brambilla l'amore per gli animali, che ripeto, io da comunista penso che sia fondamentale riconoscere il ruolo dell'uomo non come dominio dell'universo, ma come fratello darwiniano di tutti gli altri. Ebbene, noi abbiamo affidato alla brambilla 5, 6, 10 milioni di cittadini italiani che avremmo potuto tranquillamente, non dico cooptare direttamente, ma dall'insegno che volrebbe avere un rapporto credibile e accettabile e non dominante con degli animali, come possa essere anche animali di compagnia, significa essere comunisti, non significa essere di rete 4, come invece è finito. Non c'è stato verso e abbiamo lasciato, regalato anche questa cosa che pure è nostra, che pure è nostra, l'abbiamo regalata alla brambilla e che fa un ottimo lavoro da quel punto di vista, ma naturalmente molto settoriale, portando molto alla visione dei gattini di Facebook e non al diritto e ai rapporti più sani nei confronti dell'ambiente. Dico solamente alcuni punti, proprio velocemente, perché non voglio essere lungo, anche perché francamente non so bene cosa dirvi, perché avendoci 60 anni dietro di storie su questi argomenti non sapete da dove cominciare. Un appunto, si parla spesso di 5 stelle e di PD e continuiamo a demonizzare moltissime 5 stelle, se lo meritano totalmente ovviamente, ma quasi quasi cerchiamo di giustificare, siccome fanno un po' parte della nostra vecchia storia, una parte del PD, che sono effettivamente ancora di più dal punto di vista ambientale, oltre che da tutti gli altri punti di vista veramente il cancro del pianeta adesso. Perché sono nati 5 stelle? Proprio per quelle incapacità di essere noi le brambille che ci occupavamo di quelle cose, perché siamo stati, non siamo stati capaci di essere noi a dire no agli inceneritori. Nel profondo, non dichiaro che molti di noi, io penso a Musacchio, penso a moltissimi di noi, abbiamo scritto e detto cose memorabili su questi argomenti, ma come partito, come come storia politica, siamo sempre stati un poco a rimorchio di quelli che si sbattevano un pochettino di più e si battevano per i discorsi ambientali in modo un pochettino più radicali. Questo ne paghiamo le conseguenze, ma non è colpa naturalmente di nessuno dei presenti e neanche di molti di fondazione. Però questo atteggiamento molto molto distaccato nei confronti della scienza e della biologia, della biologia in particolare, è una cosa che a me pesa moltissimo. Io lo vedo con i compagni, con gli amici, con tutti quanti. Possibile che io debba sapere abbastanza bene, discretamente, molte cose di sociologia, molte cose di economia e molti compagni non abbiano un minimo di nozione di cos'è l'entropia. Io lo trovo veramente sconvolgente e, da questo punto di vista qua, distruttivo per il pianeta e naturalmente per i comunisti che ne fanno parte. Rosso-verde, io preferisco dire rosso e basta, perché comprende automaticamente il verde. Se lo vogliamo invece tenere separato, non continuiamo che continuiamo ad avallare un atteggiamento tutto sommato piccolo borghese che non ha portato lontano molti. Però, insomma, essere rossi significa anche necessariamente essere studiosi e consapevoli di cos'è l'ecologia nel pianeta e nell'universo che conosciamo. I Cinque Stelle hanno fatto quello che hanno fatto, non sono stati capaci di essere radicali, potevano essere anche adesso sulla guerra, non lo sanno essere, tanto per quello che hanno da perdere, potevano tranquillamente anche far saltare il governo, che sarebbe stato anche un bene, tutto sommato. Però così non è stato, perché evidentemente il sistema in qualche modo ti assorbe, ti attenua ogni capacità. Ancora una considerazione, due parole che vi sono scritte poi lì appunti. Greenwashing, Greenwashing è una porcata che sappiamo benissimo, sono bravissimi tutti a venderci qualunque cosa. Non dimentichiamo però che in alcuni casi, se un prodotto mi viene in qualche modo, cerca di perseguire, non ti dico la salvaguardia delle foreste, ma magari l'uso del 30% in meno in plastica nei suoi prodotti, è comunque una cosa positiva. Dobbiamo smascherare sempre il Greenwashing quando diventa automaticamente un tentativo di fare della politica su delle cose assolutamente false. E infine, che fare, che è poi il problema fondamentale. Perché sicuramente a un momento non saprei proprio cosa, ho due cani dietro che stanno abbaiando. Non sapevo proprio cosa proporre. Io continuo a lavorare nella scuola per tanti anni, continuo a lavorarci adesso che sono in pensione, faccio dei progetti con altri colleghi. In questi giorni ho il programma delle visite guidate naturalistiche a consumo zero. Faccio molti di questi argomenti, di queste cose. Lavoro sul territorio, certo. Forse bisogna lavorare di più sui social, su quella cosa che noi abbiamo molto snobbato, tanto che nel vecchio PC avevo litigato più volte, quegli anni, persino con Giovanni Berlinguerre, quando dici, ma caspita, ma è possibile che tutti siano delle TV private e il PC non abbia una TV privata, non abbia un modo di comunicare? Adesso quella roba lì è prevalentemente morta, probabilmente dobbiamo perdere di farlo sui social, ma in che modo, come domande che pongo a voi, che siete dei migliorimenti della nostra generazione? Perché non saprei proprio da che parte cominciare. Io continuo a fare quelle cose banalmente piccole, banali, che sono lavorare con i ragazzi, con la scuola, portarli in giro, spiegargli le cose in modo molto soft. Io continuo a parlare di patriarcato, faccio dei video abbastanza lunghi su questi argomenti, tiro sempre fuori Engels, gli spiego cos'è l'accumulazione primigenia e perché da quello è nato il predominio e la violenza sulla donna, prima ovviamente, e poi su tutto il resto fino al pianeta. Lo faccio, ma secondo me serve veramente molto poco. Lavoro sul territorio, nel senso che ho ogni vertenza che ha un minimo di senso ecologista. Cerco di collaborare per quello che posso da tal età, però non saprei cos'altro fare. Chiedo a voi cosa poter fare. Vorrei però che fosse un pochettino più, che fosse più coscienza da parte nostra del fatto che mentre si possono mediare su tante cose, persino sulla guerra si può mediare, sui discorsi ambientali non si può mediare. Quando io mi sono cominciato a occuparmi di ecologia, eravamo due o tre miliardi, i tempi di legno erano due miliardi, siamo otto miliardi, 7 miliardi e 950 milioni erotti in questo momento, se guardate World of Matter, che è un altro sito che pochissimi conoscono, che dà la crescita istantanea della popolazione mondiale. Su queste cose qua c'è ancora nel nostro ambito poca preparazione. È richiesto a tutti quanti noi la conoscenza di molti degli elementi di economia, dimenticandogli che Marx ha fatto molto più che, Marx e Engels ovviamente, molto più che l'economista. E naturalmente non sapeva neanche che esistesse il DNA, meno che mai i bit e meno che mai quello a cui stiamo partecipando adesso, quindi altro che genio per farli con quegli strumenti in quei tempi. Ma dobbiamo anche aggiornarci su queste cose. Io sono un po' stufo di vedere che i politici siano tutti quanti sociologi, quando va bene sono, come si chiama, quelli che fanno avvocati, giurisprudenti della giurisprudenza e ci sono pochissimi scienziati, pochissimi semplicemente. Io sono uno zappolo, io sono un forestale agronomo, il mio modo di parlare infatti è molto terra a terra. Insomma, bisogna che ci mettiamo in testa che conta avere anche un senso di quello che è il pianeta, perché non ne veniamo fuori, compagni, non ne veniamo fuori davvero. Secondo me, come dice Dennis Middorf, nel limite dello sviluppo, nel limite della crescita, che tradotta anche questo a proposito di qualcuno, faceva un intervento molto interessante sul linguaggio stamattina. I limiti della crescita sono stati tradotti come limiti dello sviluppo, ma la parola esatto è crescita, che è una cosa completamente diversa, ma completamente diversa. Bene, io pretendo che i compagni sappiano qualcosa di più di entropia e non sappiano soltanto di economia. L'ho fatto un po' di casino, scusate, comunque grazie mille per questa bella opportunità per tutti quanti per cercare di portare ancora avanti questi discorsi comunisti globalmente. Ciao!